Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha svelato un dettaglio intrigante sulla sua vita privata che ha subito catturato l'attenzione dei fan. Dopo due matrimoni finiti, Antonella sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Vittorio, l'uomo che una cara amica le aveva sempre detto essere quello giusto. Ora la coppia si prepara a fare un passo importante e simbolico, ma con un tocco inaspettato. Sono di nuovo innamorata. Non sarà un matrimonio tradizionale. Antonella e Vittorio hanno scelto una cerimonia delle promesse, un modo speciale per celebrare il loro amore senza seguire i consueti riti nuziali, che la conduttrice considera di cattivo auspicio. Questa decisione intrigante ha già acceso la curiosità del pubblico, che attende ulteriori dettagli su questa cerimonia intima e lontana dai riflettori, come mai prima d'ora. Con il suo solito sorriso e la simpatia che la contraddistingue, Antonella continua a vivere un periodo felice, sia professionalmente che nella sfera privata. E chissà a quali altre sorprese ci riserverà questa nuova tappa della sua vita. Tutti noi facciamo gli auguri, e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.